le carte dicono che la ritroveremo e basta con queste carte ci hai ucciso ma stai zitto che l'unica arte che conosce ti prometto che comunque qualche indizio lo troverò anzi Onofrio oggi mi ha parlato di una maledizione strazzate come? sono una risultata perchè ne sei così sicura? perchè non vi ricordo e mica sono tutti giallofaghi come te già ed è un peccato aspetta perchè non mi hai fatto venire a vedere il cadavere? volevo venire a vedere perchè non mi hai fatto venire a vedere ah a quanto pare sta diventando un'abitudine ma cosa è successo? a quanto pare è trovato il demone ah, rotto in culo chiara? ehi ah ci sei? si? senti ti volevo chiedere una cosa visto che Eugenio ha finito la cartigienica al momento 1 non è che ce n'è a voi è un morto caffè perchè no? e allora partiamo domani mattina e vai a fare la cartigia ma che demone? è umanissimo cosa ne sai? perchè per liberarmi l'ho graffiato e gli è uscito del comunissimo sangue me coglioni oddio stifro mi hanno parlato di te sai che hai rischiato molto andando in quel bosco da sola? ma da quando ci diamo del tuo? più o meno da quando dormi mio mennade che ti dobbiamo fare? quando ti erano ritrovato? devo iniziare che io lo so e te invece cosa è successo nel bosco? dopo che ho preso la botta prima di svenire c'è qualcosa qualcosa che ho visto un particolare che porca puttana adesso mi sfugge ah come tutti i gialli i gialli? i gialli non leggi i romanzi gialli in Poirot di Agatha Christie c'è sempre un particolare che non ricorda e gli torne mette alla fine del è stato un piacere dove vai? dove vado? dove vado? a fare qualche indagine dove vado? dove vado? vabbè è stato un piacere dove vai? dove vado? a fare qualche indagine per conto mio c'è uno scopo che mi attende da solo? non leggi i romanzi gialli? tutti gli investigatori hanno un compagno perché vado? perché vado? perché vado? è stato un piacere vabbè è stato un piacere dove vai? dove vado? a fare qualche indagine per conto mio ho uno scopo che mi aspetta e vengo anch'io no non se ne parla proprio uno perché sei piccola potrebbe essere pericoloso e due perché mi piace lavorare da solo ma non leggi i romanzi gialli scusa? ogni investigatore ha un aiutante e più il po' non lo sapevo capire aspetta aspetta è stato un piacere dove vai? dove vado? a fare un po' di indagini per conto mio ho uno scopo che mi aspetta eeeh vengo anch'io no allora uno sei una ragazzina potrebbe essere pericoloso e due a me piace lavorare da solo ma tutti gli investigatori che si rispettano hanno un compagno Cuarò e Destinx Wolf è un po' di indagini eeeh vabbè è stato un piacere io vado dove vai? dove vado? a fare indagini per conto mio c'è uno scopo che mi aspetta eeeh vengo anch'io no allora una cosa sei una ragazzina e potrebbe essere pericoloso seconda cosa a me piace lavorare da solo ma tutti gli investigatori che si rispettano hanno un compagno Cuarò e Goodwin mostra bene i cosi scritti ecco secondo me non riusciamo a fare questa scelta ma vabbè è stato un piacere io vado dove vai? dove vado? a fare un'indagine per conto mio uno scopo che mi aspetta eeeh vengo anch'io no allora uno sei una ragazzina e potrebbe essere pericoloso due preferisco lavorare da solo ma tutti gli investigatori che si rispettano hanno un compagno ahahahah vabbè è stato un piacere io vado dove vai? eeeh dove vado? vado vado a fare delle indagini per conto mio uno scopo che mi aspetta è vero anch'io allora no mettiamo in chiaro una cosa tu non vieni perché uno sei una ragazzina e potrebbe essere pericoloso e due mi piace lavorare da solo ma dove vai? che tutti gli investigatori che si rispettano hanno un compagno Warlord Destin Nero Wolf e Godwin Sherlock Holmes perché Cristo ridi? eeeh 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 mi piace avere una mano con le indagini però potrebbe potrebbe le carte dicono che ci sarà un morto come ci sarà un morto? eeeh 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 saremo discretissimi io andiamo guardando cagnamaledetta tu sei una cagnamaledetta vabbè dai togliamo lì qui giriamo eeeh eeeh guarda in camera che che? hai proprio la faccia da segretaria ma lo puoi ti fai toccare a dire te che tu sei segretario? oh io sono la segretaria di Carlo Bonnaci eheh eheh e questo rende l'idea di cosa hai Cosa sarà la scena? Lì Vabbè Non aspetta assolutamente Ho alzato la testa Questo che significa? Che mi sa che devo proprio partire Ma come te ne devi partire? Vi spiegherò tutto un'altra volta, devo scappare Ma... Lorenzo